Ciao! Oggi prepareremo un sugo davvero speciale per condire la pasta in modo diverso dal solito, il pesto di zucchine. Vediamo come! Ingredienti per 4 persone 300 g di zucchine 40 g di parmigiano 20 g di pinoli 1 spicchio d'aglio 30 g di basilico 50 g di olio d'oliva 100 g di latte Sale quanto basta Inserisci nel boccale i pinoli e il parmigiano. Aziona il bimbi per 8 secondi, velocità 8. Metti da parte. Inserisci nel boccale l'aglio e il basilico. Aziona il bimbi per 2 secondi, velocità 7. Aggiungi le zucchine tagliate a rondelle. Aziona il bimbi per 5 secondi, velocità 4. Aggiungi l'olio. Aziona il bimbi per 4 minuti, 100 gradi, velocità 1. Aggiungi il latte e il sale. Aziona il bimbi per 6 minuti, 100 gradi, velocità 1. Aspetta che la temperatura scenda a 80 gradi e frulla. Aziona il bimbi per 15 secondi, velocità 8. Unisci il composto di parmigiano e pinoli e frulla. Aziona il bimbi per 15 secondi, a velocità 8. Se ti è piaciuta questa ricetta, clicca il pulsante mi piace. Iscriviti al mio canale YouTube, ti aggiornerò su tutte le nuove videoricette. Stai su Facebook, all'indirizzo qui sotto trovi tantissime videoricette e una community di appassionati di cucina. E ora, cosa vuoi preparare? Stai su Facebook, all'indirizzo qui sotto trovi tantissime videoricette.